Lei è Morgana, ha nove anni ed è un pointer, quindi un cane da caccia. È con noi in rifugio da un paio di anni ed è arrivata in seguito a un evento un po' particolare, nel senso che Morgana ha tanta paura dei temporali, veniva tenuta dal proprietario precedente costantemente a catena. Durante un temporale è riuscita a liberarsi e a scappare, procurandosi tra l'altro una grossa ferita sul fianco che ancora è un pochino presente, le dà un po' fastidio. È arrivata da noi, il proprietario di prima fortunatamente ha deciso per il suo bene di poterle dare una seconda possibilità con una famiglia che possa gestirla molto meglio. Morgana è un cane incredibilmente solare, è allegra, le piace tantissimo il contatto sia umano che in realtà anche con gli altri cani. Non è un cane problematico, non è un cane conflittuale, questa sua giocosità. rimane anche appunto nel rapporto con gli altri cani. Morgana è adatta anche a una famiglia magari con dei bambini, perché no? Se vi siete innamorati di Morgana come ne siamo incredibilmente innamorati di noi, venite a conoscerla. Una vita alla catena, ma è una cosa terribile, oltre che essere un grande motivo di maltrattamento. E credo quindi che la nostra povera Morgana non fosse altro che per questa ragione si meriti subito di trovare una bella casa. E poi questa cosa curiosa, che lei nuota così bene, Stella, eh? Sì, e beh, è veramente bellissimo vedere Morgana in quella piscina che nuota. E questo è un motivo in più per adottare la nostra Morgana. Sarà bellissimo nuotare con lei. Parola di Stella, è della sua mamma. Allora siete pronti? La adottate? Allora vi do il numero di telefono. 348-7453-808 Oppure scrivermi